segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te compagna di avventura di oggi che c'è un peccato originale è la famosa delibera 181 e tutto quel dell'onu e tutto quello che ne deriva da lì ma però adesso oggi c'è un peccato originale ma però non mi pare ma questo è gravissimo cioè lei praticamente dicendo questo ma io non so se lascia parlare degli ospedali per favore ma lei però dice delle lancia delle accuse molto gravi non è questo che voglio dire voglio dire in questo momento medici senza frontiere insieme a un sacco di gente nel mondo ritiene che l'unico ponte che possa essere lanciato è quello del cessate il fuoco basta sparare fate uscire chi vuole uscire date la possibilità di curare i feriti io non ho aggettivi per definire il divieto di importare gasolio che fa arrivare l'elettricità di importare cibo di aiuto cioè perché una delle cose che può sfuggire e più e che gaza dipende dagli aiuti esterni senza i 500 400 camion che passavano il per la frontiera prima e adesso a malapena con bisogni che sono triplicati oggi ne sono passati 140 che cosa sono rispetto il 30 per cento di quel che serviva prima e il 10 per cento ancora di più ma molto di più allora voglio dire c'è il ponte qual è fermiamoci il ponte fermiamoci dopo troveremo una soluzione successiva perché qui c'è il problema del primo soccorso e la situazione è drammatica perché noi pensiamo ai malati di cancro l'ospedale del cancro ha chiuso chi è in dialisi muore se uno ha un infarto è un problema suo i bambini i bambini hanno commosso il mondo ma 12 mila morti il numero preciso mi sfugge ma sono più di 11 mila però posso replicare c'è un problema guardi le do 20 30 secondi perché dobbiamo dare quello che dobbiamo dare la pubblicità poi arriva l'isla e ne prego no volevo dire io sono completamente d'accordo della prima cosa che ho detto ma mi spiace quando sento dire c'è un peccato originale perché questo vuol dire negare la storia del popolo ebraico negare la continuità però ci sono state delle risoluzioni però mi scusi professoressa ne parleremo un'altra puntata ma ci sono state una serie di risoluzioni delle nazioni unite che sono state calpestate ma stavo dicendo allora il punto è un altro allora se lei mette in discussione lo stato di israele io non la posso seguire ma non ha fatto questo però se invece io ho detto che non si è risolto un problema che ha portato un discorso un discorso e diciamo su quello che è avvenuto in circondanio eccetera benissimo io poi quando si parla in questi termini devo anche aggiungere che la prospettiva va forse anche un po cambiata perché israele è circondato da paesi arabi e io credo che anche anche questa prospettiva vada su allora facciamo così